Musica 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 Mi accupere il pallone faceva il tiro Mamma mia che gol Musica 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 Ingressi in campo Seconda giornata l'Europeo Austria contro Grecia Abbiamo l'incontro Alessandro Passarella La nostra sinistra in maglia bianca La Grecia La nostra destra L'Austria Quello saluto Il pubblico presente al Kennedy Stadium E ora il saluto Tra le due squadre Ragazzi salutate Questi sono i primi tre cartellini gialli Ora ci sarà il tocco Tra i due capitani Facciamo solito il tocco La parte è capitano dell'Austria La parte è capitano della Grecia La prima persona in vita la serata Pallone dice Scelti vale campo Possiamo chiudere il collegamento Inizio secondo tempo Seconda giornata L'europeo targato SK Austria contro Grecia Il stato Ritim 0-0 Ci viviamo tutta la prima occasione del match La parte è capitano di Grecia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.